Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In a 12,2 km di coda per lavori nel tratto compreso tra Versilia e la diramazione Lucca-Viareggio in direzione Rosignano. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, traffico rallentato per un senso unico alternato tra Capanne e San Romano in entrambe le direzioni. In a 1 fare attenzione per personale su strada per lavori in direzione Bologna tra Barberino del Mugello e Roncobilaccio. Sulla FIPILI personale su strada tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena-Scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo di Firenze in Plumeta e San Casciano Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!